Io gli voglio bene, ha commesso diversi errori, lui lo sa, si è fidato di persone di cui non doveva fidarsi e probabilmente lo ha realizzato ultimamente. Probabilmente c'è bisogno anche di persone nuove e questo è anche il tema del ricambio della politica. Oggi si parla del terzo mandato per riuscire probabilmente a confinare dei governatori nella loro regione e non a capo di forze politiche, forse questo è il motivo principale, ma dovremmo parlare di ricambio della politica e fare in modo che siano dei periodi in cui le persone si prestano alla politica, non che vivano di politica.